Ecco, per fare qualche altra citazione che mi viene congeniale, Kiergaard, la gioventù è la fase della rivelazione di sé a sé, inizia a declinarsi il pronome riflessivo, io mi guardo, io mi penso. Questi ragazzi lo stanno facendo, si guardano, si pensano, cosa trovano? Ma secondo me ci provano, cioè provano a guardarsi allo specchio e anche probabilmente a costruire un'immagine di sé. Spesso pescando qua e là. Secondo me appunto manca, e torniamo forse sempre lì, chi accolga il loro racconto sostanzialmente. Cioè io penso che se dovessi trovare una funzione della paternità o dell'accompagnamento o dello stare accanto, sia proprio in questa capacità che dovremmo riuscire ad avere di aiutare a mettere insieme i loro pezzi. È indiscutibile che ci sia questa dimensione del guardarsi dentro e del provare a capirsi. Quello che probabilmente manca è che viene forse sublimato, non lo so, sostituito da una dimensione pubblica che magari anche i social ti offrono. a chi lo fai vedere però, cioè queste tue prove, a chi le consegni. Ecco, forse non hanno nessuno a cui consegnarlo, se non questo grande mondo, che è un mondo poi implacabile, perché o ti esalta e dopo ti distruggi, o ti distruggi subito, senza neanche darti la possibilità di sentirti per un attimo il Dio di questa terra. È chiaro che se il sé viene misurato dai like di Instagram, fai fatica, però è così. Io l'ho visto anche in ragazzi veramente, adesso passo le espressioni insospettabili, che dico, ma mi sembrano già abbastanza ragazzi ben formati, poi dicono, sai Don, questa foto su Instagram, ho già preso 27 like. E dico, ma questo è quello che... A volte mi sembra che manchino effettivamente qualcuno che accolga i risultati che loro provano a dare, cioè qualcuno che gli dica, guarda, su questa cosa devi crederci un po' di più in te stesso, su quest'altra, beh dai, forse lì è un po' da potare, ma non con l'intento di chi vuole essere il critico d'arte rispetto all'opera d'arte che tu sei, però a qualcuno che consegnarlo, che ti aiuta magari a sfrondare un po'. Mancano, penso, questo, credo, dentro questa dimensione. In questo momento non hanno qualcuno verso cui mettersi davanti. Allora tutto questo, come avviene, trova altre vie di espressione, che però in questo momento, secondo me, senza che questa sia una critica ai soci o altre cose, nascono per altro, non nascono sicuramente per confermare la tua identità. Hai bisogno di un volto che ti dica chi sei, o ti dica, sì, guarda, ti posso guardare, e ti puoi guardare così, hai ragione. C'è un problema di feedback, insomma, di ritorno che ricevo, che non ricevo appunto. Sì, sì, sì. Cioè, a guardarli così, però dico sempre con lo sguardo di tenerezza, tu vedi che, non so, in un intervallo, adesso qui ci sono queste tre bottigliette d'acqua, se ci fossero tre adolescenti, qui sarebbe irresistibile, le prendere e cominciano a fare questo flip, e se riescono a fare questo, esultano come se avessero visto, delle urla, a vederli così effettivamente uno dice, oddio. Però, oppure... Lei non si scoraggia, no? Mai, 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 perché poi ho detto, adesso magari io me lo sono scordato, ma chissà quante cavolate ho fatto a 13 anni, insomma, di questo tipo. Io ricordo che quando avevamo 13 anni, avevamo, perlomeno, no, forse anche qualcosa in meno, c'era la moda di Bruce Lee, e quindi noi tutti i ragazzini, avevamo o quel bastone che si piegava, sembravamo tutti dei piccoli Bruce Lee, ci stavano delle gran botte da soli, delle cose, oppure le palline, quelle che facevano tatatatatatatatatatatatatatata, voglio dire, non è che erano molto più intelligente di questo, però eravamo tutti lì, quindi anche un po' di sana autoironia ci vuole. Oppure vedi le ragazzine che adesso sono tutte prese da questo social chiamato Musical.ly, quindi alle volte anche sovrapensiero, durante le lezioni, da sole, perché in quel momento non è che c'è qualcuno che li guardi, tranne l'insegnante, gli scatta questa cosa che hanno un momento che cominciano a fare tac, 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 tag, tu glielo fai notare musical, ah scusi proprio gli parte proprio in automatico però oppure il fatto che molti vogliono aprire questi benedetti canali youtube dove che ti danno questa visibilità potenziale a migliori di persone però appunto spesso i contenuti sono ciao ragazzi allora adesso sto andando in bicicletta a casa della nonna, yeah dai mettimi 500 like e gli dico ragazzi ma perché lui ti deve mettere 500 like per una cosa che fanno tu, no prova no ecco però ecco bisogna come dire e questo è il passaggio, il passaggio è superare questa apparenza di superficialità e metterli di fronte ad esempio io mutuo in classe un gioco teatrale che è quello nel quale ognuno fa il protagonista e il resto della classe gli deve dire tutto ciò che è di bello pensano di questo protagonista lì sono momenti intensissimi perché i ragazzi alla fine tutti e non per modestia ma proprio tutti anche quelli che sembrano i più yeah io sono figo io cioè non ho paura di niente quando sentono tutta questa massa d'amore che gli arriva addosso da parte di loro coetane rimangono tutti abbastanza toccati anzi più che abbastanza molto toccati cioè dicono tutti però io non pensavo che i miei compagni di classe pensassero questo di me e quando tu rafforzi questa visione positiva e dici ma perché no guarda che tu sei così sei simpatico un altro giorno un ragazzo ha detto perché tu sei molto intelligente mi ha detto a prof trova che io sia intelligente perché io pensavo di no quindi sono lì che vanno stanati però ci vuole pazienza e ripeto grandissima tenerezza vi chiedo solo una piccola riflessione perché ormai mi è salito l'impeto polemico per cui voglio farla anche se non è proprio la vostra fascia di riferimento questa a cui mi riferisco che è la fascia che va dai 18 ai 28 e che appunto la biologia ci insegna il momento dove l'uomo e la donna hanno il massimo della potenza biologica il massimo della potenza sessuale il massimo della capacità ideativa se guardiamo anche le medaglie Fils e la matematica sono le formule che sono premiate sono state concepite in questa fascia di età dunque la nostra società ci permette di sposarci dopo i 32 35 rispettivamente per le donne e per gli uomini di entrare nel lavoro tardissimo che società è una società che rinuncia al massimo della capacità generativa dei suoi giovani sì è vero a me sconvolge ad esempio effettivamente quanto poco si investe sulle politiche giovanili però io credo che sia proprio un frutto di una profonda invidia nei confronti di queste generazioni cioè non credo che veramente ci sia un mondo adulto in crisi con se stesso che sogna e invidia quella condizione esistenziale che è quella del giovane e non si accorge che così ammazza anche se stesso non mi ricordo di chiedere questa frase ma adesso una volta mi era piaciuto un sacco dove uno diceva perché i giovani sono il nostro futuro e questo diceva no i giovani sono il loro futuro non sono il nostro allora sì credo che sia una società che non vada a nessuna parte d'altra parte penso che appunto bisogna provare ed è la cosa credo che in questo momento sia mancante a suscitare un sano senso di ribellione che in questo momento non esiste credo che la passività in questo momento sia la cosa più terribile cioè si dà per assodato è un po' come una sorta davvero di di tirannia la tirannide cosa crea crea che va bene così ma perché devi devi spostarti e questo il mondo è invincibile no e invece credo che vada suscitata proprio questa dimensione di ribellione ma che forse anche ribellione agli schemi adesso non voglio fare il facilone no però perché non pensare anche forse forme nuove no anche di aiuto faccio un esempio molto sciocco noi però che abbiamo un circolo adesso magari non so se devo citare anche il movimento a cui appartiene però dipende dal movimento no l'MCL il movimento che sta lavorando ma allora è citabile dai sono bravi però la cosa che mi ha sconvolto è che abbiamo se avevo proposto dicono ma dai un momento di crisi è vero il bar va avanti per dei volontari ed è giusto chissà così ma magari un minimo di entrate alla fine dell'anno ci sono ma perché non le investiamo non prendiamo un giovane no ma figuriamoci un giovane qua ma dopo bisogna allora credo che almeno nei nostri ambienti dovremmo invece riuscire a pensare a qualcosa un giovane a 25 anni non tutti sono nulla facenti senza voglia di prendersi degli impegni come possiamo sostenere dei giovani che a 25 anni vogliono sposarsi abbiamo luoghi ancora in cui possono stare io ho ad esempio nel mio paro che ho quattro appartamenti creati per gli anziani sono anziani che prendono una pensione secondo me normale e pagano degli affitti perché a quel tempo erano di 120 euro ma proprio già quando va fatta bene dico ma ha senso che questi che potevano permettersi un appartamentino tranquillo e non investire invece magari dire diamo un appartamento di giovani che si vogliono sposare è chiaro che questo bisogna però anche rompere gli schemi nei giovani stessi se per sposarti devi avere la casa dove la vuoi tu un lavoro super sicuro se no non si fa niente hanno ragione perché non ci sono tutele forse veramente va a livello penso delle nostre comunità pensato qualcosa per distruggere certi schemi mentali che ti portano poi a non sfruttare fino in fondo questo tempo e dall'altra parte però offrire anche delle sicurezze delle certezze e penso che le risorse ci siano ancora Potremmo dire qualcosa? Sì che secondo me andrebbe andrebbe investito perché perché io ecco la politica la politica con la P maiuscola che non vada che vada solo al contingente e non a una visione di ampio respiro è una politica asfittica e d'altra parte la crisi del padre c'è ma c'è anche secondo me in questo momento la crisi delle classi dirigenti non si vede e questo è pericoloso perché poi sempre questa crisi della classe dirigente unita alla fame del padre fa nascere il desiderio dell'uomo forte dell'uomo e gli anticorpi democratici noi pensiamo sempre che siano più solidi di qualunque altra cosa ma attenzione perché non si può mai sapere quindi bisogna sempre stare molto allerta ecco dalla fame di padre unita a crisi della classe dirigente e possibilità dell'arrivo dell'uomo forte perché si spera sempre che ci sia l'uomo della provvidenza ma dell'uomo della provvidenza ce n'è stato uno nella storia e ha proposto la politica il potere come servizio non come delirio di onnipotenza lui che sarebbe stato l'unico che se lo sarebbe potuto permettere ecco quindi insomma ci vorrebbe una politica che investisse veramente perché là dove si investe oggi dicevano appunto io credo a queste statistiche fino a un certo punto però oggi ogni tanto si scopre che è la giornata di qualcosa oggi è la giornata della felicità e la Danimarca e parlava un danese dice beh perché da noi da un certo punto di vista forse siamo felici perché la vita è semplice uno vuol fare una famiglia fare molti figli vieni messo in condizione di poterlo fare quindi ma anche in Francia so che è così poi non voglio come dire fare del qualunquismo insomma ci vorrebbero dati concreti che a questo momento non ho a disposizione però insomma se una coppia può sognare un cioè può avere un lavoro oppure la possibilità di essere aiutato in un percorso una casa secondo me i figli poi alla fine si fanno perché poi questo desiderio non mi sembra nelle nuove generazioni annullato cioè quando parli con i ragazzini chiaramente è presto perché stiamo parlando di ragazzini delle medie così però se loro dicono come vedi il tuo futuro cioè se tu gli chiedi come vedi il tuo futuro come lo desideri come lo sogni non è che pochi sono quelli che dicono voglio vivere all'avventura moltissimi sono quelli che hanno nel loro orizzonte la famiglia e i figli quindi sento che questo desiderio non è scomparso secondo me sta sta una politica veramente politica riuscire a far sì che queste aspirazioni trovino un loro una loro possibilità di essere messe in atto ecco una soddisfazione né Grazie.